Buon su, fai un pochino qua e prendo tutto Boh, speriamo che adesso si sente è arrivato il tecnico da sotto, mi è venuto a sistemare un attimo Francesco, mi senti? Io sì, te? Io sì, ma anche se rimbombo un attimo, però è arrivato il tecnico da sotto a sistemarmi Dai piani bassi? È arrivato il tecnico che subito mi è venuto a sistemare la linea Lo fanno cazzati, no? No, anche lui all'inizio era strano vederlo come sai, a lavorare in campo. Poi immagina che lui ha smesso a dicembre e a gennaio già era in campo a fare allenatore Vabbè lo sai che poi stando lì con te, già stava avanti lui, no? Sì Cioè pensa a fare allenatore con tuo fratello Primo e secondo, questa che è bello Lui è stato bravo perché comunque, Francesco, io già avevo un gruppo che già lavorava da qualche anno insieme quindi lui è venuto tranquillo, si è inserito piano piano Vabbè, ma Fabio, di che puoi parlare? Di che puoi parlare? Paolo, lo sai che mi entra sempre in punta dei piedi, eh? Non è facile Non è facile, Francesco, perché poi qualcuno magari dice... No, è il fratello di... È il fratello, infatti pure per te non era semplice No, no, infatti io ti giuro che è stato perfetto Francesco, dato che la mamata di prima non si è sentita un cacchio però approfitto per ringraziarti, tutto per la disponibilità per quanto riguarda la nostra raccolta fondi E so che mi sono impegnato in altre cose e quindi è importante comunque il contributo di tutti quanti Come ti ho detto con Alessandro, stiamo cercando di accelerare l'acquisto di queste autoambulanze ne abbiamo quasi chiuse tre ci manca la quarta quindi dobbiamo cercare di far capire alla gente che so che è un momento disastroso però dobbiamo cercare di raggiungere la quarta autoambulanze quindi per questo prima ti ho detto che ti volevo ringraziare e poi cercare di continuare a far capire alla gente che bisogna donare Vabbè, ringraziare che a me mi fa piacere, lo sai, anche perché il rapporto che abbiamo a extra calcio lo sappiamo noi e proprio la cosa che abbiamo fatto con tutti i ragazzi della Nazionale del 2006 penso che chiunque l'avrebbe fatta per aiutare tutto il mondo, non solo l'Italia, ma tutto il mondo Certo Cioè, realmente si è a disposizione di tutto anche perché con poco riusciremo a fare veramente felici tante persone E noi in primis, no? C'è stata la partecipazione di tutti Cioè, anche di giocatori, ex giocatori, no? Sì Diciamo che siamo un gruppo abbastanza grande Ma io la cosa che voglio sottolineare è stata anche da parte degli altri di quelli che non erano campioni del mondo Berrazi, chi è lì, Crescito e sicuramente non ne voglio nominare No, no, è vero, sì Troppi che stanno Sono stati dei grandi Sono stati dei grandi Però ecco, ti volevo ringraziare No, che poi tutti pensano, no? Vabbè, i giocatori hanno la possibilità Non tutti i giocatori, anche avendoci la possibilità a non farlo queste iniziative Perciò, ognuno è libero di fare quello che vuole, no? Poi ognuno ha la coscienza a posto per farlo o non farlo No, noi siamo a disposizione Abbiamo messo a disposizione tutto il possibile Perciò io No, ma io te lo tengo Tu, ti volevo ringraziare perché tu hai fatto l'altra anche con Dash per l'ospedale di Roma Io ho fatto altre cose Adesso abbiamo iniziato Beh, lo sai che poi ognuno Bravo, ognuno che conosce 800 miliardi di persone la fa con quelle che stanno ai tuoi vicini, no? Se sta diretta a tutti diventi matto Però l'importante è che fai una e poi una che si sa che tutti sanno perché poi era impossibile non farlo sapere e poi tutte iniziative che non si devono sapere e perciò per noi è ancora più bello, no? No, ma quello è stato importante che tutti l'abbiamo fatto e che fortunatamente adesso riusciamo a prendere queste tre a tua ambulanza Che sono ancora fondamentali, eh? Noi stiamo quasi stiamo ancora a borderline altri 15 giorni e forse potremo uscire a casa Lo so, speriamo perché guarda io ormai vado in giro con questo con mascherina Francesco, ma scusa adesso abbiamo parlato della nostra ma giochi ancora? Cioè ti vedo che hai fatto una squadra mi chiamano gli amici da Napoli Io vorrei dire a Francesco se posso andare a giocare con lui Ma... Lo sai che è un bel campionato? Ci stavano dei giocatori? Mi senti? Sì Ci stavano dei giocatori? Volano 20 anni 22 24 Ma ogni tanto senti l'aria Se non stai bene fisicamente fai brutta figura ti giuro però è divertente a meno noi tutti i due ti giochiamo Ma fate calciotto? Calciotto Calciotto e Sarrià Carino, eh? Bello Poi stavano pure se i giocatori perciò diventa un bel campionato Io ti dico io non a parte che mi fa male il ginocchio Quindi Ma Io ancora tu Ancora Schiaffi dentro Ancora sì ancora il piede è quello il piede è caldo Vabbè il piede ormai non è che lo può staccare il piede Pure a 60 anni il piede è quello Il problema è Il problema è il fisico Il problema è il mio che il piede non era quello buono che cacchio faccio Guarda chi c'è Guarda E poi Osè mi ha detto Ciao Ombre come stai? Bene tu Ha detto Osè mi ha detto A papà ma ha vinto il carnavalo e il pallone d'oro No è vero Mi ha detto E tu non l'ha vinto Ho detto guarda i piedi di Cannavaro sono diversi da quelli di papà Ma è bello nessuno se lo spiega Guarda Eppure Io ho detto se nel 2006 c'era Fabio il mondiale non vincevamo E' vero che lui è tifoso della Lazio Sì Vabbè Ciao Non diventa rosa Faccio la play E te faccio la play A scuola americana c'hanno una settimana di buco pasquale capito? Sì Non è come in Italia Ma lui che parla bene inglese No lui parla americano proprio Eh ma lui ti ha mai sentito parlare un po' inglese A me? I miei figli quando mi sentono parlare mi prendono solo per il culo Eh sì Un po' capì a tavola che mi fanno Fra lui Chanel e mi moglie mi massacrono Perché pure io gli ha fatto il corso accelerato inglese Ah No Ma il culo pure il puletista beh parla inglese Manco solo io E' il tardone de casa Comunque non è molto Il tuo papà non ha vinto il pallone d'oro ma ha vinto altre cose e ha fatto altre cose Ma non è vero Tranquillo Ma non è vero Ma non è vero Poi Credimi Ciao Era difficile era difficile giocarci contro Molto difficile Mi ha gonfiato il botte Ma ha gonfiato Però ci faceva sempre gol Come a Buffon Quando c'era Gigi in porta era sempre gol Vabbè Ciao Ciao Mamma mia Si vergogna Ah Francia Ma direi di conto Oggi Mamma mia Mi crescono 14 anni Oggi 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 C'ho La diretta L'avevo vista Con Fabio Cannaval Ma qualcuno Capisce Poi non è vero Ma sei l'incuglionito E ho detto Ma scusa Non stavo A raggiungere con te E ho detto E ho capito Perché lui Sbagliava Tu fratello Sì Ma quelle Le generazioni Purtroppo Cambiano E quindi No vabbè Francesco E qua mi dicono Bucchi Chi c'è? Entra qualcuno? Ma ne ho visti A parte Allora Francesco Uno dei difetti Uno dei Delle problematiche Di essere allenatore Sai qual è? È quello di lavorare Molto al computer Eppure io Sto a lavorare al computer Ecco Se ti posso dare un consiglio Usa Gli occhi Dici eh Però sai che cosa Che dopo i 40 Si abbassava la vista Mo ce n'ho 43 Io ancora ci vedo Ma io Però mi dico Guarda Da giorno alla notte Non vedi più niente Io ti giuro Francesco Adesso la sera Arrivo a casa Cioè Quando inizio Perché io lavoro di sera Guardo le partite di sera Vabbè certo E Ti giuro Non Non vedo niente Adesso che Ho messo Ma da lontano O da vicino Vicino Solo da vicino Non vedo un cacchio Davvero Ti giuro È una brutta cosa Eh oh Ti vedo bene La prossima diretta Ma se me ne dico Chiari allora Francesco Ho visto Che hai fatto la diretta Con Luca Toni Mamma mia Mi ha richiamato oggi Ne vuole fare un'altra Ne vuole fare un'altra Ne ho detto Ma questo come stava Il maioncino rosso No vabbè Sembrava Babbo Natale Dopo l'ho richiamato Ho detto Luca Però ti voglio bene Mettere al petto nudo Meglio Guarda E' inguardabile Poi sembrava Babbo Natale Tutta la barba Quando abbiamo fatto la diretta Perché ho chiamato Un po' tutti Del 2006 Ho visto Quando ho chiamato Marco Materazzi Allora Marco Materazzi Ha iniziato a parlare Sai Che noi difensori Così E io gli ho detto Guarda che secondo me Il miglior difensore Che avevamo Non era Né Cannavaro Né Nesta Né Materazzi Ma era Luca Toni Ho sentito quel pezzo Lui è stato il miglior centrale Nella nostra nazionale Non c'è Ripartiamo sempre Contro i piedi Per lui Sempre Sempre Lui è stato il miglior difensore Di quella Di quella nazionale Campione del mondo O qui tu chiedi Mamma mia Però Quanti rifate Mamma mia Che tempio L'altro giorno Stavo a far vedere Il campione europeo Il 2000 Anche quello Stavo a rivedere Olanda Italia Mica mai ricordavo Ma che partirete fatto Oh tra te Nesta Giuliano E Mattini Toldo Ma pure Del Piero Ma pure Del Piero Sua faccia Perché ti ricordi Che a un certo punto Con l'espluzione Di Zamba E io andai Stipo a destra All'inizio Sì Stipo a destra Ma sì Sì Ale si è miso a fare L'ala destra Oh ma ti hai fatto Una partita Imbarazzata Stavo a parlare All'altro gioco Cristian Non passava Non passava nemmeno Una virgola Ti ricordi Oh Fraci ma ti ricordi Quello stato Tutta arancione Che bello Che tempi Mamma mia Ma era tutta arancione Era imbarazzante Poi a me A me quel giorno Mi era così al culo Quando giocavo Ti ricordi Ma è stata la nostra forza Perché comunque Per quello che abbiamo fatto Anche nel 2006 No Infatti Vabbè C'erano dei suoi A me quello Mi è rimasto qui Francesco Mamma mia Ti giuro Stavo un passivo Al 93 Ho spento tutto Ma tu La sai quella di Gigi Riva Che lui era vicino alla coppa Lì A Rotterdam Sì Lui era vicino alla coppa E gli avevano messo Il tricolore Praticamente E 30 secondi Mancavano E quando Pesce Il torno Tossero Il tricolore Dalla coppa Inizia a piangere Un 3 di 8 Certo Se pensi a quell'azione Con tutta la divisa schierata Voi che detesta Avete pure se Se c'era Che ne so Anderson No ma C'era un po' Sì Ma la potevi tenere Nell'angolino Io Ma per sotto Che è andata fuori gioco No No Guarda La colpa È di Alessandro Del Piero Alessandro Facciamo il 2 a 0 Sì ma pure te Come cazzo sei saltato Allora Quella è stata Sembrava che te ricevano Mi sono mancati i centimetri Così ero C'hai i capelli C'hai stata l'unica C'hai stata l'unica Tu ce l'avevi bianca La fascetta Mamma che brutta Mamma mia A riguardarci Dico mamma mia Inguardabile Proprio Inguardabile Inguardabile Uno peggio Che n'altro Però quel periodo Andavano i miei faccetti Che capello lungo Era un po' lo stupido Il capello lungo Io c'ho una foto Che Con Sì C'eravamo io Tu Malda Nesta Alessandro Mai c'ha i capelli qua Mamma mia Gli è parte da dietro Con la tempia E gli è parte Ormai Come si è andata Però mamma mia No quella partita Fu impressionante Quella partita Ci ha detto male Cioè ci ha detto bene Colanda Ci ha detto male Carlo Sì però dopo Alla fine ci ha ripagato Il 2006 Tranquillo Però noi giocammo Molto meglio Noi giocammo Molto meglio A Rotterdam Rispetto a Perché la finale Sì perché la finale A A Berlino Eravamo troppo Eravamo cotti Eravamo cotti Vabbè abbiamo fatto pure 800 minuti Che la Germania Abbiamo fatto Anche lì Allora Ti giuro Quando la La fanno vedere No Perché la gente Guarda Che Tutto La L'immagine Del secondo gol E' l'immagine Di quella partita No Però Andare a Rivedere Tutta la Cioè Proprio Tutta la Seguenza Delle partite Impressionante Le distanze E Le A cacco Contro difesa Bravo I partite I partite Del mercoledì È solo Sì Cioè A vederle adesso Dici Cacchio Poi Vabbè L'azione Del secondo Gol Cioè È classica Azione Da Contropiede Italiano Italiano Proprio Ne aspettavo Aspettavo Solo quello Noi Mamma mia Mamma mia Imbarazzante Imbarazzante Certo E' a casa Com'è? Non ti ha posto? Guarda Daniela E i ragazzi Sono a Napoli Sanno anche loro In quarantena Io so Martina Che è La più grande Prisa Il più grande Che è Il momento papà Guarda Inizia Guarda 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 Hola Hello How are you? Che paga Inizia Do you speak English? Eh? My name is Fabio I'm from Nepal You? What's your name? What's your name? What's your name? Lei si chiama Federica Non è vero Ah no? What's your name? Mi chiamo Isabel Ah Isabel Isabel Oh Isabel Very nice to meet you Do you know I'm from London? Ah Ah Well Perché parla inglese? Perché parla inglese? Io non parlo inglese No You speak English? Eh? Non ce la faccia parlare No Non sei l'unica Tranquilla Eh? Eh? How are you? Eh? Non ce la faccia One, two One, two, three, four Non capisco niente inglese Invece guarda che scemo Guarda Vi abbi da la giuggiolona Ciao 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 Abbassate No E te vede no? Ah si De metà Eh alza Abbassate De metà Ormai sono Ti vi è passato Eh Ciao Come va? Dai saluta Tutto bene Tu? Bene bene Sono lontanissimo Sono in Cina Ah Sei in Cina Eh Mamma mia Eh sta bene Vedi qua sta Ma loro escono già Allora lì è già passato Sì qua Già è passato Vedi quanti vedi Eh Lasciala sta Ti per voglia Eh Vosemma ha detto Ma ci stanno i filtri No perché loro La nuova generazione Fanno tutti i selfie così Mettono i filtri È normale Dai Noi stavo con la cabina Giocavo con la testa Con il gettone Stavo in giro Con il gettone Francesco Posso mai dimenticare Il viareggio Il viareggio Quando facevamo il viareggio Dovevi prendere i gettoni Per andare Io non ho fatto il viareggio Eh io ne ho fatti tre Sì? Tre Sì Non mi ho fatto Con il capisena L'unica cosa Che mi manca Eh vabbè 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 Sai che io Per dire Non ho fatto Una nazionale Under 15 Under 6 Io ho fatto Direttamente L'Under 21 Davvero? Sai che Io ho fatto Vabbè Tu Noi ho fatto Noi ho fatto Con Gigi Con Di Valle Un tiroro Sì Io ho fatto Nesta Io sono arrivato Semifinale Dell'Under 21 A Barcellona? No Prima Il viareggio prima A Spagna A Spagna Mamma mia Come giocavano pure quelli Che poi Io sono venuto Perché si era fatto male Vieri Mi sembra No? Sì Christian Christian Stavo in vacanza Ma anche lì Vincemmo Con due uomini In meno Mi tocca la Francia 1 a 0 Proprio Sì E poi vincemmo E poi Ricordi Qual era Il campo De Spagnolo Che era? Quello era Il Montjuic Sì Dovrebbe essere No Adesso hanno cambiato Anche Adesso si L'abbiamo Il campo olimpico Sì Sì Ok L'altro giorno Vedevo Vedevo L'arrivo nostro Di quando siamo Arrivati A Roma Vedevo Delle immagini Ti ricordi Che qualcuno Neanche solo L'ha fermata Roma Che vuole tornare A casa Bravo Ti ricordi Che noi Prima di partire Ce ne dissi Di tutti i colori Quindi No Andiamocene via E invece Fu Era impossibile Era impossibile Ma ti ricordi Quel pulma Che lo portavano In braccio La gente Ma noi Siamo partiti Da Vicino Fiumicino Poi No Siamo Atterati Sì Che rupperò la coppa Iniziamo bene Ho detto No però Francia Sai cosa Te lo dissi Anche l'altra volta Appena ci abbiamo La possibilità Dobbiamo organizzare A parte Vabbè Le partite con Le lente Però dobbiamo Organizzare Un tre Un due giorni Da qualche parte Perché noi Praticamente Da quella sera lì Che lasciamo Roma Non ci siamo più visti No È vero Non ci siamo più visti Quindi Vabbè Non c'è mai occasione Sì Perché comunque Adesso Ognuno Io sono fuori Gli altri iniziano a girare Non c'è stato Chi fa l'alletone Chi è qua Gigi che ancora gioco È buon croco A prolungare Ha detto No Ha detto che adesso Vuole rinnovare Un altro annetto Però Fino a 50 Che fatica fa Perché tanto Porta Per secondo Ogni tanto Fa qualche partita Si diverte No Ma fa bene Se sta bene Fa bene No ma Io glielo dissi All'epoca Fin quando ti diverti Perché non è lui Che smette Perché tu lo fai meglio di me Non è che è lui Che smette Sono gli altri Che ti fanno smettere Bra È il problema Capisci È totalmente diverso Sono gli altri Che ti fanno smettere Quindi fin quando vuoi Devi approfittarne Anche dopo Dopo Ti godi la vita Perché secondo me Dopo iniziamo Un'altra fase Non ho visto sciare Oh Dopo 30 anni Mi sono messo in sci Eh Ma fai snow Come ho fatto a vedere ma sciare Dove hai visto? Fai snow? No Che snow Sì Così Lascio le produzione E le armi al disco No Io invece faccio snow Sì Io faccio snow Fichissimo È una Bello Mi ha preso Mi ha preso la passione dello snow Eh ma l'ho detto Che è bello però Che poi Dino pure È più facile Sì Sì Cosa che prima Un po' di fai Adesso Per questo ti dico Che tu dopo Quando smetti Inizchi a fare La vita normale È una godura Però Gigi fa bene A giocare Ma fa bene Dai Danti due tre anni Fa bene Danti due tre anni Aspetta che il figlio Fa 18 anni Così è contenta Pure in aria Meno No ma aspetta Che lui Aspetta Oh è arrivato Balotelli Eccoli qua Brutti Oh ma ha scritto Ma ha scritto L'altro giorno Balotelli Ho fatto La diretta con lui L'altro giorno Eh ho visto Ho visto No se riesci Falla Se riesci Fai una diretta Con lui Lui è figo Perché poi Mi ha iniziato a fare Mestre ma io Io soffro i lavori A secco Capito Ma Ma sempre quelli Ma quello Li soffriamo tutti Pensa se stava Con Zeman Buona mia Ti uccideva Mario Però ti ricordi Come arrivasti Dopo il ritiro Con Zeman Tu te lo ricordi? Io sì Perché me lo ricordo? Perché ci incontrammo A Coverciano Eri praticamente così Camminavo con l'aria Camminavo Avevo perso 7-8 kg Mario Mi ha fatto morire Mi ha fatto una bella diretta E ho visto L'ho vista A pezzo No se riesci Falla perché Ma la faccio Come questi giorni La faccio È divertente È divertente Ancora c'è un tempo Ancora c'è un tempo Sì Eh oh Bisogna stare in casa Penso Dai Ormai manca poco Il peggio è passato Vai Eh ma Penso Dopo ti dico Io l'ho vissuto qui Ma scusa Ma lì I ristoranti I bar Tutto chiuso O aperto No 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 Tutto aperto ormai Tutto aperto E come sono Come si organizzati I ristoranti Tutto Allora ti dico Prima di Mi fa male la gamba ancora Dice Balotelli Io ho detto Io ho scritto Su un messaggio Ti sei salvato Che non ti ho preso bene Gli ho detto Allora ti dico Qua I ristoranti Praticamente Sono aperti Soprattutto Quelli all'aperto E Prima di Farsi sedere Loro si misurano La temperatura Prima che entri Al ristorante Sì Sì Devi rilasciare Praticamente Il tuo numero di telefono Dove abiti Perché Qualora Non so Successe Qualcosa Sì Qualcun problema Qualcosa E ti vengono a prendere E ti fanno Farsi di nuovo La quarantena Mamma mia No però Francesco Sarà anche così In Italia Non pensare No no Io penso Sì Ma infatti Ma scusa I ristoranti Fa conto che Un ristorante C'ha La capienza De Cento persone Lì entrono Tutte il cento Oppure Hanno Levato un po' Di persone Adesso Non ridotto Non ridotto il menù Io sono andato La cosa figa Francesco Andato a fare A tagliare i capelli Allora Praticamente Guarda come scavo io Sì Ero con la mascherina E mi ha messo Mamma mia E mi ha messo Praticamente Una visera Poi mi hanno messo Questo mantello In plastica Praticamente Era tutto monoufo E c'avevo questa visera E lui mi tagliava i capelli Da dire La roba Mi sa che mi conviene Farmi la boccia qua Mi stava a fare la boccia Oh c'è anche la Michi Miki manda la roba Della Nike Dai Ah bravo Michi Mandaci un po' De cose Anche perché Ti devo chiamare Che te lo parla un po' De De ragazzi Che gli fai yoga E rompe le palme Che sennò Vuole la roba E poi un po' Della Franci ma Ma che percentuale stai? In che senso? Fisica A che percentuale stai? Adesso starò A 10 Di massa grassa? No no Di percentuale fisica Ma ti ricordi Che ti chiedevano sempre A che percentuale stai Franci? A che percentuale stai? Oh ma stai 10 10 A 10 stai bene però Stai bene Oh peso quasi 88 kg Cioè stai meglio Cioè stai meglio adesso Di quando giocavi Franci Ma manca poco Mi sono allenato così Giuro Oh mattina e pomeriggio M'alleno No no mi ho visto Mi ho visto Di allenamento Poi c'è un amico mio La X-Cross Che mi sta ammazzare Quello è bello Quello è bello No ma è bravo Fabrizio è bravo E vabbè E vabbò Bene Franci Grazie Grazie Ti mando a dormire Ma qui è qua Due meno un quarto La mattina è quella che svegli Ma guarda Io la mattina Massimo 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 alle nove Io vado a letto tardi Perché io lavoro la sera A me mi piace Mi piace lavorare la sera Mi piace guardare le partite la sera Perché la notte porta consiglio La notte porta consiglio Però mi rilano Anche perché Quando i ragazzi Vanno a letto Prima sto un po' con loro Ceno con loro Vabbè certo E mi metto un po' Perché io c'ho Martina Ti stavo dicendo Martina e Andrea Che lavorano Che stanno qui con me E vanno a scuola qui E c'ho Cristiano Il più grande a Londra E quindi E che fa? Storia Sport Management Business Management E poi andrà a fare Sport Management Sì Allora se mi serve qualcosa Lo chiamo Bravo Te lo mando Appena finisce Te lo mando Sei come il padre Ma lui è E' serio Studia Lo vedi Che gli piace Gli piace Sono diversi da noi Diciamo Per fortuna Per fortuna Sì Ma perché loro Hanno la possibilità Di poter fare Comunque tante cose Certo Ecco Noi ce le siamo dovute Guadagnare Loro le hanno avute E se le devono guadagnare Anche loro Vabbè certo Mica è tutto dovuto Anzi Mica è tutto dovuto Anzi No no ma Masturri e carote Bravo 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 Però Mi sveglio Ti ripeto Mi sveglio Alle nove E poi Qua la mattina Adesso sto andando un po' in bicicletta Bravo Bravo Che scrive Quando la supercoppa Perché Chi? Praticamente Qua Ciao Dove sta? Dove sta? Chi c'è? Dove sta? Dove sta? Non lo vedo più Ma chi ha scritto? Aspetta Che qua Non ci vedo più Mi ha detto Che Davidio Non ci vedi No Mi chiedeva Della supercoppa Che dobbiamo giocare Contro di lui Che lui sa Lo Shanghai Che no Ah sì? Sì Dove cacchio Se non lo trovo più Eccolo Ecco Fabio Ma come fai? Mi hai fatto cominciare 15 giorni fa Gli allenamenti Che si inizia a luglio No perché noi già lavoriamo Francesco è un cagagazzo L'allenatore Te lo dico Ma voi stai allenato voi? Noi sì Già da due settimane Ma come va allenato? Tutti insieme o? Tutti insieme Noi ci alleniamo già tutti insieme Perché noi abbiamo fatto la quarantena Abbiamo fatto tutti Abbiamo fatto la quarantena Ci siamo Già stiamo Ci stiamo allenando Vabbè Già state avanti voi Dai Sì 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 Anche se dicono a luglio Ma noi comunque facciamo 5 allenamenti E 2 giorni di riposo 5 allenamenti E 2 giorni di riposo Vabbè A me ne passa pure il tempo Dai Li sto sfondando Giusto Ci hanno sfondato a noi È giusto che noi sfondi Oh no Ma perché Poi sono piccoletti Devono correre È giusto Ti giuro Sono delle belle I miei sono I miei sono Non so Allora Uno pensa che i cinesi Sono piccoli Guarda I miei cinesi Sono delle bestie I miei cinesi Sono 184 Sono 185 Sono le 90 Ti giuro Ma sono fisicamente Cioè perché poi Sono come sai Da noi Al nord e al sud Io ho tanti I giocatori del nord Ma sono fisicamente Dei bestie Sì Sì Vabbè Meglio così Va bene Un bacione Grazie La chiamata Di tutto Quando vuoi A disposizione In bocca al lupo Per la tua nuova Esperienza Grazie mister Anche a te Non so se prenderai Anche gli allenatori Vedremo In futuro Mi prendi Mi prendo Preparati Io non ce l'ho ancora Il procuratore Perciò Potresti essere Il primo allenatore Guarda Bravo Qualsiasi cosa Siamo qua Un abbraccio Ok Grazie Salve a tutti Saluta Paolo Saluta tu moglie E i bambini Ciao Bucchi Ciao 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 Francesco Grazie Ragazzi Come avete visto In questi giorni Lo dico anche qui Anzi oggi È partita Questa iniziativa Con la Cannavarro Ferrara La fondazione Ci sono Delle maglie All'asta E questi soldi Serviranno per Acquistare Delle spese Per le famiglie In difficoltà In questo momento Napoletane Campane Siamo in contatto Con tre associazioni E questi soldi Li daremo anche Alle associazioni Che gestiranno Queste Queste spese Quindi se potete Andate Sui nostri social Troverete Gli indirizzi Che oltre Ai campioni Del mondo Adesso abbiamo Iniziato Questa Nuova cosa Ciao a tutti E Buonanotte Ciao a tutti